Ogni giorno di più una città abbandonata, a parte quel mese di Natale in cui il centro storico si illumina, poi la città torna nel suo buio e nel suo abbandono, come tutti i cittadini vedono ogni giorno. Credo che ci sia bisogno di un rilancio dell'amministrazione. Questo sindaco ha la data di scadenza, probabilmente non gli interessa più, una campagna elettorale che nel centro-destra è già partita, tutto questo ovviamente va a scapito dei nostri cittadini, non va bene. La controconferenza stampa di fine anno dei gruppi di minoranza in Consiglio Comunale ad Arezzo fa un lungo elenco di quello che, secondo loro, l'amministrazione targata Ghinelli ha annunciato e poi lasciato sulla carta, una su tutte, la nuova caserma della Polizia Municipale di Arezzo che doveva sorgere in via Fabio Filzi e la questione sicurezza. La caserma di via Filzi doveva sorgere il nuovo punto della Polizia Municipale è andato a farsi benedire perché non verrà realizzato. Il punto in piazza Guido Monaco è sempre chiuso, pertanto anche dal punto di vista della sicurezza non si assicura quel diritto ai cittadini di poter girare Arezzo in modo tranquillo. Sulle politiche sociali si è espressa Valentina Vaccari, sottolineando l'assenza di attività e iniziative che possano prevenire l'abbandono scolastico, le problematiche giovanili e i disagi che possono sfociare nella microcriminalità. È stato invece Michele Menchetti, Movimento 5 Stelle, a sottolineare il progetto sul nuovo centro per l'impiego, anche questo rimasto sulla carta. Sì, diciamo che hanno parlato i colleghi delle opere pubbliche, ma a me quella che ha colpito particolarmente è quella del centro per l'impiego, in cui appunto ci sono stati, doveva essere consegnato entro il 31-12-2023, invece così non è stato, è stata appunto una proroga della scadenza, della convenzione fino al 36-2025, che guarda caso coincide con il termine della consigliatoria. Quindi il centro per l'impiego secondo me è un po' l'emblema di quello che non è stato fatto ad Arezzo, cioè molte opere incompiute, tanti cantieri cominciati o perlomeno progettati e poi incompiute assolutamente. E poi lo scarso potere politico di questo sindaco nella vicenda medio e truria, che ha visto, hanno detto le minoranze, che il governo è dalla sua stessa parte politica e una maggioranza invece in consiglio comunale di centro-destra, che secondo i gruppi di minoranza, scricchiola. Sì, due consigli comunali importanti, bilancio e documento unico di programmazione, diciamo il programma di lavoro dell'amministrazione per i prossimi anni, bene, Forza Italia non era presente, non è un'assenza casuale, e ci sono dei problemi in maggioranza, il sindaco che è il garante della maggioranza faccia chiarezza. I cittadini devono sapere se la forza moderata che appoggiava questo sindaco c'è sempre o se abbiamo un governo, Fratelli d'Italia-Lega, quindi un governo di estrema destra che appunto governa questa città. Ci vuole chiarezza prima di tutto per gli elettori di quella parte politica, ma credo anche per tutti i cittadini. Assente dai banchi della minoranza, Marco Donati, per Scelgo Arezzo. Sì, c'era un'assenza che come forze di minoranza avevamo però invitato, di conseguenza ci riteniamo soddisfatti comunque sia di aver coinvolto più persone e più forze di minoranza possibili.